ciao nel video di oggi parleremo del potenzialamento dell'intuito tattico attraverso il potenziamento della conoscenza relativa ai patterns di tipo tattico è una continuazione dei precedenti due video di queste due serie in cui già abbiamo presentato due patterns tatti tipo tattico oggi continueremo a partire da questa posizione che ha fatto appunto nascere un pattern di tipo tattico la partita è relativa la posizione relativa alla partita giocata nel 1991 da short contro timman short e timman sono stati due forti giocatori che hanno conteso il titolo di campione del mondo pur non avendolo mai raggiunto e tuttora giocano ma hanno avuto il massimo splendore di forza a fine novecento inizio del 2000 vediamo dunque la posizione del diagramma in cui è possibile è possibile analizzare gli elementi strategici che la caratterizzano la cosa che che predomina nell'analisi strategica è che il bianco domina la colonna di anche qua sull'importanza della colonna vi invito a rivedere il mio video relativo all'elemento strategico possesso colonna che è un elemento che porta vantaggio in quel caso qua è un elemento che gioca un ruolo molto importante nella posizione che stiamo vedendo così come è molto importante la debolezza delle case nere dell'arrocco del nero in quanto la casa g7 e h6 non sono facilmente diventibili da pezzi del nero in quanto il nero alla fiere delle case bianche le torri non possono difendere quindi sono estremamente deboli questi due elementi sono il presupposto di conoscenza ed ispirazione per capire il pattern di oggi in questa posizione quindi che che evidenzia questi due aspetti strategici che la caratterizzano nigel short che che è diventato appunto famoso anche per questa partita ha giocato una mossa molto forte talmente forte che che era h2 che neanche i motori vedono e la forza di questa mossa è anche la motivazione per cui i motori vedono cioè non vedono e quindi non propongono come migliore mossa è dovuta al fatto che la variante con cui il che il nero potrebbe giocare quindi il nero in quella posizione qua potrebbe giocare al fiere c8 con la quale minaccia la torre in d7 e i motori di scacchi non vedono il seguito fortissimo che segue dopo il fiere c8 il seguito fortissimo è che il bianco sfruttando la colonna e la settima può e la debolezza dell'arrocco può innescare un attacco imparabile sulla casa f7 quindi questo qua è il concetto del che sta dietro a recca 2 quindi recca 2 si profige di parare in una prima fase di parare la minaccia al fiere c8 quindi sul fiere c8 il bianco potrebbe giocare cavallo g5 che anche qua è una mossa estremamente difficile da vedere per un computer i computer di primo acchito propongono g4 ma cavallo g5 è la più forte dopo cavallo c5 g5 il nero al nero non conviene prendere in d7 perché segue la terrificante torre f4 torre f4 con cui si minaccia cavallo per f7 e a seguire dal matto in h8 quindi la minaccia del nero del bianco e cavallo mangia f7 è seguita da donna h8 a questo punto ci sono un po' di seguici ma nessuno riesce a parare la minaccia supponiamo donna c5 a questo punto cavallo mangia se torre mangia donna mangia questa è una delle migliori possibilità per il nero però porta comunque la sconfitta e dopo donna mangia che inchioda la torre il pedone difende la torre e c'è la terrificante minaccia torre f7 con matto seguire sembra plausibile una mossa tipo donna para ma a questo punto scacco se rai g8 torre g4 se donna copre si può cambiare le donne e dopo torre in settima il bianco ha un vantaggio enorme in quanto ha due pedoni in più e la torre inoltre attacca il pedone c7 e la difficoltà del motore di scacchi è rappresentata dal fatto che la variante è molto lunga e fa fatica a vedere dall'inizio che quella posizione qua è vinta per il bianco nella posizione iniziale quando viene giocata re h2 con l'idea dopo il fire c8 cavallo g5 il fronte di calcolo per il programma è abbastanza lungo e quindi fa fatica a trovare che la mossa migliore nella posizione iniziale è re h2 quindi re h2 è una mossa fortissima che nigel short sulla base degli elementi di tipo strategico che abbiamo realizzato all'inizio dell'analisi della posizione ha giocato sull'intuito penso perché la variante alfile c8 cavallo g5 è molto è molto è molto è molto direi difficile a calcolare in tutte le sue sfumature però anche timman dopo re h2 non ha non ha non si è fidato di giocare a fire c8 appunto per la variante di prima ma ha giocato torre c8 gioca torre c8 perché è abbastanza paralizzato e e quindi non non ha ritenuto opportuno giocare alfile c8 a questo punto nigel short e diciamo gioca il piano che l'ha reso famoso in quella partita il piano che l'ha reso famoso è che lui in quella posizione qua ha capito che la debolezza delle case nere può essere sfruttata da un attacco con il re e quindi e scogita il piano di andare col col re all'attacco in h6 per poi dar scacco matto con donna g7 e la cosa sorprendente e diciamo non 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 consueta è che normalmente il re è bene che stia protetto e che non si esponga andando all'attacco quando ci sono tanti pezzi abbiamo già visto in un mio precedente video come re possa e debba avere un ruolo di di attivo nella vittoria nel video che abbiamo visto in cui re nel finale attacca due debolezza ma appunto il re svolge solitamente un ruolo di attacco nella fase finale e è abbastanza inconsueto che lo giochi il ruolo in quando ci sono tanti pezzi però in quella posizione in questa tipologia di posizione e da qui appunto il pattern di tipo tattico è ricordare quel modello di posizione in cui ci sono le debolezze delle case nere intorno al re e il re può senza pericolo andare all'attacco e andare all'attacco per aiutare in quel caso qua la donna da scacco matto e quindi ha giocato la fortissima re g3 anche qua è la miglior mossa della posizione il nero è abbastanza impotente a questo piano e rimuove la torre in e8 a questo punto nage shot prosegue il suo passo e a questo punto dopo alfiere c8 gioca re g5 e il team abbandonato perché non ha potuto non potrà diciamo impedire di di andare in h6 quindi se per esempio alfiere mangia c'è re h6 e scacco matto seguire con donna g7 e se per impedire re h6 team man avesse giocato re h7 sarebbe seguita anche qua sfruttando l'elemento tattico dell'inchiodatura del pedone f7 sarebbe seguita donna mangia pedone scacco il pedone non può mangiare la donna perché la torre perché è inchiodato dalla torre in d7 in settima e anche qua l'importanza della torre di andare in settima e controllare la settima a questo punto seguirebbe re h8 e dopo dama h6 scacco è re g8 unica segue re f6 combatto seguire donna g7 quindi aveva il nero a disposizione ancora uno scacco ma dopo donna prende cavallo pedone la minaccia donna g7 è imparabile e quindi direi che la bellezza della posizione e della modalità e la caratteristica della posizione in cui il nero il bianco vince mettendo sul piatto della della partita l'elemento tattico dell'attacco del re in centro partita per cui per difendere le case nere è diventato un pattern da questo momento e ed è stato e diciamo a quella partita qua diventata famosa ed è ed è ricordata appunto per questa caratteristica qua del re che va in attacco direi che potremmo vedere la partita perché dall'inizio perché riusciamo a vedere magari a comprendere come dall'inizio è stato la caratterizzazione delle debolezze delle case nere e il possesso della colonna è stato perseguito da short durante le mosse della partita quindi short durante l'evoluzione della partita ha cercato appunto di di perseguire questi questi elementi di tipo strategico per appunto dopo raggiungere una posizione che gli ha concesso di di vincere la partita quindi short ha giocato e 4 quindi controlla il centro col pedone in e4 e timman ha scelto di adottare la difesa alekin che che è una difesa abbastanza diciamo complessa però concettualmente è giocabile ecco è complessa perché il cavallo controlla il centro ma si espone come del resto fatto timman al peggione al pedone che avanza quindi il pedone che era già collocato al centro si avanza per destabilizzare la pulizia del cavallo cavallo va al centro e il bianco occupa con un altro pedone il centro mentre il nero occupa il centro col cavallo il quale è abbastanza instabile perché può essere minacciato anche dal pedone c4 il il nero a questo punto decide di far giocare alfile c8 controllando la casa e5 col pedone d6 e il bianco sviluppa i pezzi controllando il centro il nero nell'ottica di controllare il centro quindi in questa apertura e questa condotta della partita di di timman dell'apertura il timman si prefigge di lasciare nelle mani l'occupazione del centro e ma si limita di sviluppare i pezzi per controllare quindi g6 alfiere g7 si muove in quella direzione qua a questo punto il bianco sviluppa il pezzo attacca il cavallo che si sposta e controattacca l'alfiere che va in b3 controllando la casa f7 quindi il bianco colloca il suo alfiere per controllare f7 e le case al centro mentre il nero si sta limitando a tirar fuori i pezzi per controllare il centro quindi come se il nero avesse abbandonato l'occupazione al centro però a vuole controllarlo quindi entrambi i giocatori direi che stanno giocando bene alfiere g7 appunto controlla il centro timman gioca donne e2 per difendere i5 che era già difeso al cavallo al pedone ma vuole riprendere dopo di per e prende con di per e evitando il cambio delle donne timman esce con i pezzi per controllare il centro il short a rocca nero a rocca entrambi hanno posto sicuro al re e adesso il nero cercherà di dar fastidio al bianco che deve ancora sviluppare il cavallo c3 cercando di mettendo sotto osservazione l'alfiere con a5 il bianco ha giocato h3 per evitare di far sviluppare l'alfiere in g4 il nero gioca a5 per dar fastidio al fiere questo punto il nero elimina la tensione al centro cerca di cambiare dei pezzi e si raggiunge quella posizione sulla scacchiera in cui al bianco per completare lo sviluppo serve di muovere il cavallo mentre il nero ha completato se vogliamo lo sviluppo l'unica cosa che il bianco ha il pedone e5 che che limita un po' movimento dei pezzi del bianco del nero il quale può solo con l'alfiere è un po' limitato nelle case perché la casa c4 incontrata al pedone può solo andare in f5 il nero inoltre in d4 attaccava i5 e il bianco deve perdere una mossa per difendere colatore il pedone in e5 questo punto fa una scelta abbastanza se vogliamo discutibile perché rinuncia ad andare in f5 con l'alfiere oscura l'alfiere da prospettiva di gioco l'alfiere solo dopo b6 e alfiere b7 perché ritiene il nero che alfiere f5 possa essere oggetto di attacco col pedone g4 quindi decide di fare quella scelta qua in più quella scelta qua vuol mettere il cavallo in d5 il bianco completa cerca di completare lo sviluppo del cavallo mettendolo in f3 e il nero posiziona il cavallo in d5 che è una bellissima casa non avendo paura di c4 perché con c4 il bianco indebolirebbe la casa di 4 e a questo punto il nero il bianco gioca cavallo f3 attaccando la donna la donna si sposta e il bianco inizia un piano di basato su il controllo la maggior capacità di muoversi al centro quindi se vogliamo è un vantaggio di spazio vuole come obiettivo andare a cambiare l'alfiere in c1 con l'alfiere g7 quindi già ha un obiettivo strategico di eliminare l'alfiere g7 perché un difensore delle case nere intorno al rocco nero a questo punto timma per per impedire il piano del bianco che era di giocare donna h4 e alfiere h6 per cambiare l'alfiere case nere propone il cambio di donna che è un fastidio per il bianco a questo punto il bianco e scodice un piano interessante abbastanza che sbilancia un po' la posizione gioca alfiere c4 quindi sposta l'alfiere per evitare il cambio e si sottopone alla variante che gioca timma che è questa gioca cavallo b6 e dopo b3 cavallo prende pedone prende la posizione diventa un po' sbilanciata perché nel campo del bianco i due pedoni i pedoni diciamo a4 c4 c2 si sono indeboliti perché non si riescono a difendere tra di loro il nero dal canto suo ha due forti alfieri e un altro vantaggio del bianco rappresentato dal fatto che i forti alfieri però c'è alfieri c8 che non gioca quindi il bianco il nero dovrebbe cercare di porsi il problema di muovere l'alfiere la mossa è al al nero il quale nero sceglie di giocare torre 8 per parare una minaccia tipo tattico che rappresenta sulla scacchiera che rappresentato dalla mossa alfiere a3 gioca torre 8 parando con la minaccia qua e il bianco a questo punto mette l'attenzione sulla colonna di quindi sull'elemento strategico guadagno della colonna quindi il bianco dice io ho quegli scompensi posizionali rappresentati dalle debolezze delle case a4 c4 c2 e però ho come vantaggio il maggior spazio al centro e ho come cartucce da spendere il cercare di scambiare l'alfiere c1 con l'alfiere g7 per indebolirla al rocco quindi prima occupa la colonna d quindi guadagno della colonna e poi sposto la donna nell'ottica di giocare alfiere h6 quindi due diciamo elementi di tipo strategico che mette sul piatto della bilancia bianco il nero dal suo canto cerca di completare lo sviluppo con l'alfiere b7 perché il nero chiaramente riteneva che gli elementi di tipo strategico avvantaggio al bianco fossero non fossero sufficienti per vincere da parte del bianco però alla fine avrà ragione short il nero prima di cercare di cambiare l'alfiere sposta la donna sulle case bianche evitando la possibilità dopo alfiere h6 e dopo alfiere per donna per donna f8 quindi mettendo giocando alfiere e3 fa giocare la donna sulle case bianche e impedisce la difesa con donna f8 questo punto short inizia a cercare di indebolire le case nere intorno all'arrocco nero e chiaramente il nero cerca di vietare ciò e gioca alfiere h8 quindi preferisce tenere l'alfiere delle case nere per difendere g7 e a questo punto però short salta sul secondo elemento di vantaggio che aveva che era la colonna il possesso della colonna d e gioca torre d8 per cercare di approfittare del tatticismo che torre per donna per sarebbe matto e quindi il nero non può mangiare la torre approfittando di questo elemento di tipo tattico si permette di raddoppiare le torri sulla colonna d quindi tutte le due torri controlleranno a breve la colonna d e quindi gioca torre d8 con l'obiettivo di occupare la colonna d tima gioca alfiere b7 e e short come detto va ad occupare la colonna d c'è da dire che a questo punto non è possibile da parte del del nero di mangiare le debolezze supponiamo che il nero giochi donna 4 per il vantaggio del controllo della colonna d e del fatto che la torre è inchiodata la torre in ottava quindi in questa in questo diciamo serie di elementi di tipo tattico qua short avrebbe potuto giocare donna e 7 perché con minacce imparabili perché a questo punto short minaccia torre mangia torre 8 e torre di 8 scacco quindi e anche dopo un alfiere g7 quella variante qua è vincente per il bianco quindi la forza di questa mossa torre ad1 è possibile quindi perseguire short perseguisce il suo obiettivo di tipo strategico sfruttando l'elemento tattico che della torre in ottava e quindi dell'impossibilità da parte del nero di poter andare a mangiare i pedoni e gioca a questo punto dato che è abbastanza immobilizzato gioca alfiere g7 e a questo punto anche qua il short gioca una mossa forte quindi ha raggiunto il dominio della colonna d e non vuol cambiare le torre e a questo punto gioca torre di 7 quindi con una sottile minaccia nel caso in cui il nero se il nero vuole proporre il cambio delle donne per esempio in quella posizione qua giocare donne e 4 la sottile elemento tattico che può sfruttare nel short in questa posizione è rappresentata dal fatto che potrebbe giocare torre e mangia dopo torre e mangia scacco e con vittoria da parte del bianco quindi gli elementi tattici costringono a giocare la presenza di questi elementi tattici che fanno giocare a Timman la mossa torre f8 e a questo punto short può terminare il secondo obiettivo strategico quindi il primo obiettivo strategico era controllo alla colonna d secondo indebolimento dell'arrocco con il cambio degli alfieri quindi a questo punto lui ha realizzato entrambi gli obiettivi tattici e a questo punto segue lo sfruttamento di questi obiettivi strategici e quindi metti in gioco ulteriormente l'altra torre non avendo paura di alfieri c8 perché su alfieri c8 seguirebbe un veloce matto dopo torre prende e anche qua è la settima e possesso la colonna d che fanno nascere queste potenzialità di tipo tattico e a questo punto Timman non potendo giocare subito alfieri c8 pensa di parare l'attacco del bianco sulle case nere e sulla colonna h giocando torre a e 8 quindi dice gioco torre a 8 sperando di non perdere e riuscire a giocare alfieri c8 per scacciare la torre dalla settima short gioca donna a scacco re via e a questo punto short non ha giocato la migliore per fortuna direi perché se non avessi giocato la migliore non avrebbe creato il pattern del re che va all'attacco per controllare le case nere e avrebbe giocato la mossa migliore che sarebbe stata cavallo h4 con l'idea di cavallo mangia g6 quindi cavallo h4 è un'idea che minaccia f3 perché cavallo h4 para anche g2 il matto che potrebbe avere a disposizione il nero sulla casa g2 e minaccia cavallo g6 nel momento in cui il bianco il nero gioca alfieri c8 se il nero giocasse alfieri c8 a questo punto il bianco giocherebbe cavallo mangia e dopo pedone mangia la torre va in h4 con il matto a seguire o donna h8 o torre h8 quindi la mossa migliore sarebbe stata cavallo h4 perché non si può giocare alfiere c8 ma neanche si può giocare alfiere a8 perché dopo re k2 che è la più sottile ma si potrebbe giocare anche f3 però re k2 penso sia la migliore e dopo un torre c8 può seguire f3 con minaccia imparabile cavallo per g6 e la vittoria sarebbe stata diciamo magari anche più veloce però short ha giocato invece cavallo h4 h4 facendo ingegnando un'altra forte idea che è quella di prendere il pedone e portarlo in h6 per darmato in g7 sfruttando appunto l'immobilità dei pezzi dei pezzi neri rappresentati dal possesso della colonna e dalle debolezze delle case nere gioca h4 il nero apparato con h5 la minaccia h5 e a questo punto c'è stata l'inizio diciamo dell'attacco del re del re di short che va all'attacco e quindi la fortissima re h2 e e con vittoria come abbiamo visto delle mosse fatte vedere all'inizio della partita l'importanza dello studio di questo di questa idea è stata sfruttata anche da altri giocatori perché nel nel 2018 due giocatori Ilan Ilan Persson contro Lau Ruas si è trovato in questa posizione che vi faccio vedere e secondo me l'aver studiato da parte di Hillard Pearson la la partita di di short il fatto di aver fatto quello studio gli ha consentito in quella posizione qua di trovare la miglior risorsa da parte del del bianco che quella la risorsa tattica da parte del bianco quella posizione qua è quella di andare con il re in h6 quindi c'è una similitudine con la posizione di short perché quando il re sarà in h6 il bianco minaccerà donna per torre re per torre e torre e otto matto quindi diciamo l'intuito educato con lo studio della partita di short da parte di Pearson in questa posizione qua gli ha fatto giocare re f4 dopodiché l'intuito tattico è stato supportato dal calcolo che avrà fatto sicuramente Pearson però diciamo che l'intuito quindi il pensare andare all'attacco con re è stato possibile dallo studio che ha fatto Pearson della partita di short e dell'apprendere gli elementi che la caratterizzavano quindi gli elementi che caratterizzavano la posizione di short era la debolezza del caseniere e il re avrebbe potuto andare all'attacco contribuire all'attacco senza essere in pericolo e in quel caso qua il calcolo che supportava il pericolo del re era un po' più complicato però Pearson ha giocato re f4 a questo punto ha calcolato che dopo donna mangia f2 poteva andare in re g5 con l'idea che se il suo avversario avesse giocato donna f5 sarebbe andato in h6 con la minaccia donna mangia torre re mangia torre torre otto matto e il nero ha difficoltà a far fronte a questa minaccia perché se giocasse donna c5 seguirebbe donna f6 minaccia matto e a questo punto il nero potrebbe giocare donna la prende ma dopo torre para la minaccia di matto è imparabile l'unica mossa per pararla è donna c3 e a questo punto perde la donna con anche qua dopo f6 matto matto a seguire con la variante quindi a questo punto il suo avversario invece di giocare donna f5 calcolato la variante che abbiamo visto ha pensato di parare l'ingresso del re giocando re g7 però il Pearson ha giocato torre f4 e dopo donna mangia h2 è seguita la bella variante che è basata sull'ausilio del re all'attacco e su un aspetto tattico rappresentato le torri che possono andare in settima attaccano settima ottava quindi un attacco da matto che il diciamo il nero ha calcolato e non ha consentito che l'attacco della matto potrebbe essere se il pedone avesse preso la donna Pearson avrebbe giocato torre mangia dopo scacco scacco sarebbe seguito quel matto qua per non prendere quel matto qua l'avversario di Pearson ha giocato dopo donna mangia g6 re h8 e anche qua come nella partita di short il re trionfalmente va in h6 controlla g7 matto e oppure donna matto in h7 e la partita finisce anche qua quindi è importante puntualizzare come la risorsa l'intuito di Pearson è sicuramente stato educato dallo studio della partita di short del 1991 tra l'altro direi che lo stimolo dell'argomento di oggi mi è venuto anche perché recentemente ho visto una partita che mi ha fatto collegare queste due partite che è quella giocata da da Benini la Clarice Benini che è stata una forte giocatura italiana primi del novecento la quale Benini ha giocato una partita che aveva dei connotati simili al pater che abbiamo visto oggi che volevo farvi vedere giusto per curiosità storica quindi negli anni 40 Benini ha giocato in quella posizione che vi faccio vedere quindi in questa posizione quindi un po' di anni prima sia di Shore che di Hillard Person ha giocato il re che va all'attacco per controllare e per aiutare gli altri pezzi ad aramato quindi Benini dopo alterne vicendi della partita è giunto con la posizione qua non ha più la donna però grazie al piano alla mossa migliore che può giocare con la posizione qua re H5 con l'idea re H4 re G3 quindi il re che va all'attacco che aiuta ad armato la partita è proseguita con dama G8 re che va all'attacco donna prende e a questo punto anche se la migliore sarebbe stato alfiere H2 per andare successivamente in G3 e minacciare alfiere G2 matto quindi con sconfitta diciamo imminente dopo questo seguito quindi questo qua sarebbe il matto diciamo la sequenza più folita però a questo punto Benini ha giocato re G3 e dopo donna H5 che non è la migliore perché comunque la posizione è vinta da parte del nero Benini ha giocato alfiere 3 scacco e dopo torre per ci sarebbe stato matto torre D1 matto a questo punto direi che quello che volevo puntualizzare oggi e ribadire è l'importanza dello studio indirizzato al riconoscimento dei patterns di tipo tattico e lo studio per essere diciamo mantenuto nel tempo richiede un ripasso potrebbe essere quello di oggi un ripasso e deve essere per anche dargli una valenza di ricordo a lungo termine deve essere un uno studio legato anche aspetti emozionali perché se noi leghiamo lo studio anche emozioni in quel caso qua l'emozione potrebbe essere l'emozione che viene data a vedere una bella combinazione questo aiuta il ricordo dei patterns e fa in modo che quello studio e quell'educazione dell'intuito possa venire d'aiuto allora quando riconosciamo nelle posizioni il modello studiato con oggi è tutto spero che sia stato interessante vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao